Salve a tutti e bentrovati in un nuovo video. Sono TNBT, è mezzanotte passata da poco e siamo qui per commentare insieme il capitolo, o meglio, lo script del capitolo 1075 di One Piece, uscito pochissimi minuti fa, quindi video proprio caldo caldo, e andiamo a commentare appunto il primo script. Prima di fare ciò però, questa volta ci tenevo a fare due parole sull'incontro che c'è stato sabato, perché per chi non lo sapesse appunto c'è stato qui allo Star Shop di Perugia un incontro gestito appunto dalla Star Comics in collaborazione con Sommo Buta, il re del Bike & Raft, Cristian Posocco, responsabile credo della linea manga Star Comics, comunque un personaggio di un certo calibro nell'azienda Star Comics, e Francesco Toschi. Insomma, è stato un pomeriggio divertente, interessante, io sono andato lì non come ospite ma come appunto semplice ascoltatore, lettore del manga, insomma, comunque sono stato riconosciuto da alcuni di voi, quindi ci tenevo a ringraziarvi per le chiacchiere che abbiamo fatto, ci tenevo ovviamente a ringraziare il Sommo e gli altri per essere venuti, tra l'altro era la prima volta che incontravo Angelo di persona dopo anni che comunque ci conosciamo di fama, tra virgolette ci scriviamo sui social, abbiamo lavorato insieme al journal, eccetera eccetera, quindi è stato molto molto bello incontrarli di persona, sia lui che Gabriele Toschi, anche lo avevo già conosciuto per puro caso, una situazione tra l'altro abbastanza comica, come ho conosciuto Toschi qui a Perugia, ma quella è un'altra storia, però insomma, sono stati tutti molto molto simpatici, un bel pomeriggio, insomma, quindi pollice in su per tutta la community di One Piece, che veramente dovrebbe essere sempre così unita. Detto ciò, parliamo un pochettino di questo script che è uscito da poco, lo leggiamo insieme e proviamo a commentarlo. Allora, il titolo lo abbiamo ed è Laboface Death Game, e già è un nome che comunque è un titolo che ispira, ecco, leggiamo un pochino lo script. Mini-avventura, Vegapunk incontra gli astri di saggezza, cominciamo subito col botto. Qualcuno sta distruggendo tutti i lumacofoni nel laboratorio, Shaka non riesce a vedere cosa stia succedendo. I pirati di cappello di paia e i satelliti di Vegapunk formano quattro gruppi, uno di questi viene attaccato da S-Snake. Is-Bear e Is-Oak attaccano la control room. Shaka dà loro l'ordine di fermarsi, ma non funziona. Luci e Kaku si svegliano e chiedono a Luffy e Zoro di liberarli per combattere insieme. Ora, ragazzi, la roba da dire ce n'è, anche se questo è uno script molto asciutto e quindi sicuramente c'è dell'altro, però già possiamo farci un'idea su questa prima didascalia, no? Allora, la mia avventura, che Vegapunk conoscesse gli astri di saggezza era ovviamente scontato. Bisogna capire se Saturn, cioè l'astro che in questo momento si trova nei pressi di Haggad, abbia un rapporto, diciamo, forse più stretto o particolare, un qualcosa che lo lega a Vegapunk. Perché proprio lui, cioè i cinque astri, magari hanno fatto, hanno tirato una monetina, hanno fatto a sorte, oppure c'è un motivo per il quale è proprio Saturn che sta lì? Ecco, speriamo che anche questo magari ci venga chiarito da parte di Oda. Detto ciò, qualcuno sta distruggendo i lumacofoni. La teoria del traditore. C'è questa teoria che appunto vorrebbe uno dei satelliti di Vegapunk come satellite spia, satellite traditore che quindi trama contro gli altri. Però, da quello che sembra almeno lo script di questo 1075, parrebbe di no. O meglio. I Mugiwara innanzitutto divisi in quattro gruppi. Ecco, questo è particolare. Sono curioso di vedere un po' come sono questi gruppi, come sono stati amalgamati. Magari in uno c'è Sanji, magari in un altro c'è Jinbei, in un altro forse c'è Frenki. Non so, magari quelli più forti forse, credo, siano divisi tra loro. Aspetto di vedere come verrà realizzata questa scelta da Oda, perché poi immagino le polemiche già sui livelli di forza all'interno della ciurma, perché magari ha mandato Tizio insieme a Caio e piuttosto che con Sempronio. Però, anche questo fa parte del gioco. La cosa interessante però è il fatto che anche la teoria di Stassi, secondo me, quindi Stassi come, diciamo, infiltrato all'interno delle fila di Vegapunk, sta scricchiolando un pochino. Ci deve essere qualcuno, qualcun altro. Ecco, il personaggio che nello scorso capitolo ha attaccato, se non sbaglio, Atlas o forse Pitagoras, non ricordo bene quale, però è lo stesso personaggio, chiaramente, che sta facendo tutto ciò, che sta distruggendo i lumacofoni. Quindi è qualcuno che vuole non essere visto, che sta cercando in qualche modo di agire nell'ombra. Che possa essere Shiryu, come qualcuno ha detto, non lo so. Questa teoria, a me così a naso, non convince al 100%, però potrebbe anche essere. Sono curioso un po' di sapere le vostre opinioni, quindi fatemi sapere qui, secondo voi, chi è, ovviamente, il personaggio che sta facendo tutto questo. Poi, ora questo è solo lo script, quindi probabilmente con le tavole, il capitolo completo, avremo qualche indizio in più. Ecco, per ora è sicuramente cruciale il fatto che i Serafini non rispondano più ai comandi. E noi, da quello che sappiamo, c'è solamente un livello al di sopra di Vegapunk, per quanto riguarda il comando dei Serafini, che è, appunto, quello dei Cinque Astri. Quindi, potrebbe essere Saturn, in questo momento, il personaggio che comanda gli Astri, quindi che comanda, scusate, i Satelliti, e comanda i Serafini, e quindi è già lì, in quel momento? Potrebbe essere lui, quel personaggio che nel capitolo scorso ha attaccato Vegapunk? A me, non so perché, ma anche questo non convince, nel senso che un personaggio così importante, che si muove, tra virgolette, senza scorta, senza chizzarlo intorno, per capirci, non so perché, ma non riesco ad immaginarmelo. Quindi, è veramente un mistero chi può essere a fare tutto ciò. Non mi viene assolutamente in mente nulla, in questo momento potrebbe essere uno dei sei Vegapunk, potrebbe essere magari un'altra, diciamo, propagazione della personalità di Vegapunk. Magari c'è un Vegapunk difettoso, malvagio, non lo so, la butto lì, proprio sparandola. Però, le ipotesi a questo punto possono essere tantissime. Gli ordini di Shaka non funzionano, questo ci fa capire che è qualcuno o a livello di Vegapunk o superiore. E siccome gli unici che noi sappiamo essere sopra di lui sono i Cinque Astri, a questo punto o c'è un Vegapunk, tra virgolette, difettoso, che gira per Heged, magari si è liberato in qualche modo e sta facendo il panico, oppure, effettivamente, Saturn dovrebbe essere già lì nei paraggi e dovrebbe far valere la sua influenza sui, diciamo, sui Serafini. Però, ecco, come dicevamo prima, mi risulta difficile pensare che un astro di saggezza possa muoversi così liberamente in un territorio, comunque, dove ci sono dei nemici per il governo, come la ciurma di un imperatore. Ecco, mi sembra molto strano. Detto ciò, un'altra cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è il fatto che Luce e Kaku si risvegliano e chiedono a Luffy e Zoro di combattere insieme. Cioè, non tanto in sé per sé per il fatto che, appunto, un tempo erano nemici e adesso combattono insieme, no, perché questo, diciamo che, conoscendo Oda, è quasi la normalità. Cioè, dopo che abbiamo visto a Marineford Crocodile, cioè uno dei cattivi, dei villain, più, forse, forse meglio riusciti di tutto One Piece, lo vediamo combattere a fianco a Ruffy, dopo questo, a me, sinceramente, non scandalizza più nulla. Più che altro, è difficile capire la motivazione che, due capitoli fa, ha spinto Luce e Kaku a combattere, soprattutto Luce, con tutte le sue forze contro Ruffy, e adesso, di punto in bianco, si risveglia e dice di voler combattere a fianco. Insomma, è molto strano visto così. Credo che nel capitolo, quando avremo la versione integrale, con le immagini e tutto il resto, i dialoghi, probabilmente si potrà capire qualcosa in più del perché di questo comportamento. Ma, ripeto, alla luce di quanto visto, sembra abbastanza inspiegabile come cambio, diciamo, di atteggiamento. Quindi, staremo a vedere. Sembra comunque un capitolo che farà parecchio discutere. Penso che ci sia parecchia roba interessante. Come sempre, io vi invito a iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, e a lasciare un bel pollice in su, qui sotto, per supportare la mia attività su YouTube. Detto ciò, per chi volesse, magari, farsi una lettura un po' particolare, i miei libri li trovate su Amazon, L'Uomo delle Pulizie, versione digitale, e Infernal Catering, che è l'ultimo uscito, ve lo consiglio, in versione cartacea. Detto questo, ragazzi, nulla, ci vediamo in settimana con, credo, la lettura in live del capitolo, quando uscirà quello completo, e poi con i consueti video commenti al capitolo 1075. Ah, tra l'altro, settimana prossima non dovrebbe esserci la pausa, quindi, per fortuna, avremo due settimane di fila di capitoli, e se continua così, Oda, diciamo che non ci si annoia mai. Un saluto a tutti da TNBT, ci vediamo, e niente, buonanotte a chi va a dormire, viva, viva One Piece, ciao!